A Teramo sono 13 le ditte che hanno presentato offerte per la realizzazione dell'intervento destinato ad allestire un'arena da 600 posti nell'area archeologica del Teatro Romano. Si tratta di imprese terramane di altre province abruzzesi ma anche di fuori regione pronte ad aggiudicarsi l'appalto da 7,7 milioni di euro che completerà la cosiddetta rifunzionalizzazione dei resti di epoca imperiale. A valutare le singole proposte sarà la commissione di nomina dirigenziale della quale faranno parte i tecnici del comune. Sì, questi sono anche i giorni in cui si sta completando il percorso di due interventi fondamentali della città del centro storico, i due teatri, la città dei due teatri, il teatro comunale e il teatro romano, teatro comunale con due ditte che hanno partecipato e 13 ditte per il teatro romano, come giustamente ricordava lei. Da qui a breve, già dai primi di settembre, partiranno i lavori della commissione che valuterà ovviamente le proposte. Quindi abbiamo chiuso di fatto con questa fase l'iter amministrativo. Una volta definita l'aggiudicazione, con la definizione del progetto esecutivo, successivamente si partirà con i lavori che costituiscono veramente oggetto di un intervento fondamentale per il rilancio di Teramo-Città-Capoluogo. Entro tre mesi la fase progettuale dovrà essere conclusa stando ai tempi fissati dal Comune, per cui il cantiere potrebbe essere avviato nel primo scorcio del 2024. Il recupero del teatro romano sembrava un sogno, era diventata un'utopia ad un certo punto. Nel corso dei primi cinque anni abbiamo avviato il cantiere con la demolizione dei due palazzi, con il progetto esecutivo, abbiamo intercettato tutte le risorse e oggi ci avviamo alla rifunzionalizzazione complessiva, d'intesa in collaborazione con la sovrintendenza, perché sarà un lavoro delicato e importante, di un'opera che consentirà di svalorizzare il patrimonio culturale di Teramo-Città-Capoluogo, un hub di riferimento non solo cittadino, provinciale, regionale, ma un riferimento di tutta la competitività culturale di Teramo-Città-Capoluogo a livello nazionale.